La UAG di questa settimana è una grande tifosa di calcio e ha una schiera di fan pronti ad ammirarla. È sposata con il calciatore Blairin Zemali, che gioca per la nazionale svizzera e ha da poco firmato con il Bologna. Ma chi è la sua bella mogliettina? Si tratta di Eriona Suleimani. Si è fatta notare durante gli europei in Francia e ha lasciato tutti a bocca aperta. La bella albanese è una fan sfegatata di suo marito e lo segue ovunque. Ma che cosa fa quando non è allo stadio? La 29enne fa la modella ed è stata descritta da GQ come la ragazza più attraente di tutti gli europei di calcio 2016. E quando non è in passerella è occupata a tempo pieno con i suoi figli. Blairin ha decisamente fatto il miglior gol della sua vita e siamo sicuri che ci sarà sempre una bellezza in tribuna a fare il tifo per lui. Grazie. 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 Grazie.